È un po' di tempo che attraversiamo quello che è la storia degli italiani e non solo degli italiani, per cui è la cosa più bella che possa accadere a un artista, il fatto di rappresentare uno spaccato così temporalmente importante. È la cosa più gratificante che ci sia. Grazie a tutti.